Cinque anni fa noi in provincia non avevamo nemmeno il progetto di massima di queste strade. Abbiamo fatto redigere i progetti di massima, i progetti esecutivi, abbiamo reso i progetti cantereabili grazie all'aiuto e alla vicinanza dell'ufficio, soprattutto nella persona dell'ingegnere Ciccio Di Nè. Tramite degli interventi mattellanti abbiamo cercato di portare su varie fasi il finanziamento di queste opere, infatti una è stata finanziata per 980.000 euro e l'altra è stata finanziata per 353.000 euro. Ma tutto questo grazie a un intuito, un intuito soprattutto imprenditoriale, perché oggi non festeggiamo solo la realizzazione di queste opere, oggi festeggiamo l'eliminazione di un contenzioso che aveva la provincia e un apparto fermo che aveva la provincia da oltre vent'anni, che parliamo del vecchio apparto che fu collocato perché praticamente la ditta che aveva vinto l'apparto era una notte mafia, quindi vent'anni di stallo, vent'anni di fermo e nessuno mai diceva qualcosa. L'intuito imprenditoriale ci ha portato a prendere questi soldi che erano quasi 21 milioni di euro, a prendere questi soldi e mantenerli nel nostro territorio realizzando tre opere importanti e indispensabili che sono la SP1, la SP61 e la Frana, la Frana famosa che da oltre 15 anni rende impercorribile la strada della zona industriale. Tutto parte da un emendamento a firmare il consigliere dell'anno e quindi bisogna sicuramente essere orgogliosi e felici per il raggiungimento di questo obiettivo che poi è stato portato avanti in giunta ed è stato fino alla fine, grazie all'ufficio tecnico, diceva bene Maurizio quando asseriva che la difficoltà è stata quella anche progettuale perché quando ci siamo insediati, a differenza di quello che qualcuno può dire, non c'erano pronti nemmeno i progetti, quindi è stato un incalzare continuo da parte dell'amministrazione, da parte della politica tutta, anche nei confronti degli uffici affinché potessero redigere i progetti necessari per poi stanziare le somme, per poi appaltare l'opera e finalmente per firmare i contratti. In queste ultime settimane abbiamo vissuto dei momenti di forte tribolazione perché molti di voi sapranno che la legislazione vigente sui contratti è molto articolata e a volte basta poco per vanificare il lavoro di anni, per questo a volte la notizia la tenavamo con più alto riservo per evitare che magari qualcuno altatamente potesse mettere i bastoni tra le ruote, ma alla fine con la firma del contratto e delle due opere l'obiettivo è stato sicuramente raggiunto, obiettivo che permetterà di rendere sicure due alberi importantissime. La buona politica non è un'invenzione dell'immaginario, è un fatto concreto che spesso perdiamo di vista perché prevale unicamente la ricerca della mala politica. Cos'è la buona politica? È il gioco di squadra innanzitutto. Qua voi vedete due consiglieri provinciali, uno poi è diventato anche assessore, che pur essendo di gruppi diversi, hanno lavorato in maniera univoca a una serie di obiettivi senza avere mai gelosia l'uno dell'altro, ma svolgendo un ruolo di massima propulsione al servizio dell'amministrazione. Io devo dare atto non solo dell'impegno, soprattutto della realtà con cui sia Maurizio Orrano che Michipace hanno svolto il ruolo di consigliere. Inoltre abbiamo tre assessori, uno già assessore, noi, meglio già, uno già assessore, Abbate e poi di nuovo Michipace, che hanno lavorato al di là delle loro rubriche per sostenere questi obiettivi. E ci siamo riusciti, grazie alla buona politica, di una visione programmatica e della ricerca delle risorse per finalizzarle a un obiettivo determinato. Ma la buona politica è stata anche il modo con cui abbiamo gestito queste opere. La strada provinciale 1 ha visto il concorso di 260 imprese, 260 imprese hanno fatto istanza e hanno partecipato al bando per la giudicazione dei lavori. È capitato che una volta definita la gara, alcune imprese hanno fatto delle opposizioni che si chiamano tecnicamente in fase di precondenzioso, cioè prima di rivolgersi al TAR, hanno presentato istanza per sollevare, secondo loro, anomalie nelle procedure. Questa cosa è stata gestita in maniera mirabile dal nostro ufficio, perché non solo la giudicazione era corretta, ma abbiamo avuto la possibilità di dimostrare ai ricorrenti che era corretta sulla base dei parametri che erano stati seguiti. Poi abbiamo aspettato 40 giorni per fermare il contratto, perché volevamo vedere se le nostre argomentazioni erano condivise o meno. A tutt'oggi non è arrivata nessuna opposizione, abbiamo fatto quindi la ferma del contratto della SP1 il 5 aprile e stamattina, diconsi stamattina, abbiamo fermato il contratto per la strada provinciale 61.